amici del portale del verde buongiorno ben ritrovati oggi con questo video voglio portarvi qui in questo magnifico bosco a così ad ammirare questa splendida fioritura dell'aglio orsino l'aglio orsino è una pianta in questo caso è una pianta erbacea bulbosa spontanea che cresce in queste zone qui siamo vicini al lago di varese perciò zone umide e la pianta predilige assolutamente le zone ombrose poca luce la luce del mattino la luce del tardo pomeriggio fanno sì che questa pianta possa svilupparsi al meglio una pianta che noi possiamo mettere nel nostro giardino magari coltivandola prima in vaso quindi si fa crescere queste piantine nei vasi poi si cambiano i vasi dando sempre più spazio alla pianta perciò si aumenta la dimensione del vaso fino a poterla mettere in terra lì noi potremo andare a propagare la pianta così all'infinito tramite la divisione del cespo perciò è abbastanza semplice fare questa propagazione l'aglio orsino che ha queste bellissime foglie di questo verde sgargiante molto lucide quando va in fioritura come in questo momento ci regala veramente delle visioni strepitose sembra veramente di essere dentro in un eden passatemi il termine pianta dalle mille proprietà sono veramente infinite ve ne accenno qualcuna ha delle caratteristiche lenitive depurative per la pelle è un potente disinfettante anche una forte azione diuretica è un antibatterico un antifungineo insomma ha un'azione anche purificante del flusso sanguigno riduce il colesterolo ricco di vitamine a b e c possiamo definirla così una super pianta come si può utilizzare l'aglio orsino allora questo non è il mio mestiere lascio questo compito a chi è bravo nelle ricette di cucina comunque nel web trovate veramente molti blog dove trovate ricette dove si può utilizzare e soprattutto come preparare l'aglio orsino diciamo che non si butta via nulla della pianta si usano le foglie i fiori e anche il bulbo la fioritura dell'aglio orsino avviene da fine marzo inizio aprile fino addirittura giugno quindi abbiamo un lungo periodo di fioritura che varia a secondo dell'umidità della luce insomma della posizione dell'altitudine dove cresce questa bellissima pianta la pianta crea questi mazzetti di fiori sono dei fiori arriva a farne anche fino a una ventina ogni singola pianta perciò molto graziosi delicati e che meritano sicuramente di essere guardati da vicino se la domanda che vi state ponendo è la seguente ovvero l'aglio orsino ha lo stesso problemino tra virgolette che ha l'aglio ovvero che non regala un alito diciamo così molto simpatico ecco possiamo fare questo paragone che come l'erba cipollina sta alla cipolla ecco che l'aglio orsino sta all'aglio questo un po per semplificare le cose sicuramente ha un gusto più delicato e crea sicuramente problemi minori all'alito per chiudere questo video vediamo anche perché si chiama orsino semplicemente perché è il cibo preferito dagli orsi che al risveglio dal letargo ne vanno veramente ghiotti proprio per riacquistare le forze che così sono venuti a meno durante il letargo e alla fine veniamo al nome come mai si chiama aglio orsino semplicemente perché è il cibo preferito dagli orsi che una volta finito il letargo ne vanno veramente ghiotti proprio per riacquistare le forze riattivare tutte le funzioni e perciò ne mangiano in grande quantità io come sempre spero di esservi stato utile con questo video vi invito a mettere un bel pollice all'insù spollicciate ma soprattutto iscrivetevi al canale ciao alla prossima